Allora, qui ci troviamo di fronte, ha un capello trattato, decolorato, quindi fortemente sensibilizzato. Qual è l'obiettivo del servizio che andiamo a fare su questa testa? Ok, quindi togliere anche questo aspetto un po'... Sì, che sono sensibilizzati dai trattamenti. Ok, che tipo di prodotto andiamo a fare? Discipline. Discipline di nicchia. Ok, possiamo partire allora con il lavaggio. Lo scopo di questo shampoo? E' di generalmente organizzare le cuticole in modo che si riconchiano leggermente. Naturalmente togliere tutti i residui, soprattutto siliconici, penso che sono... In modo che il prodotto quindi agisca in profondità anche questo. E' molto complicato. E' molto complicato. E' molto complicato. Che cosa fai? Due in questo caso, e il secondo lo teniamo... In posa qualche minuto. Sì, in più. In posa. Quindi questo invece è uno shampoo tipico. Questo è un shampoo hidratante. Hidratante, quindi è una base leggermente acida. Sì, sì. Sto che ne uso un bel po'. Ok, abbiamo finito lo shampoo. Ora pezziniamo e poi dopo riasciugiamo. Il capello verrà completamente riasciugato. La strada è la sua parte. Il capello verrà completamente riasciugato. Seguire il capello verrà completamente riasciugato. La strada è la sua parte. La strada è la sua parte. Il capello verrà completamente riasciugato. E' la sua parte. Il capello verrà completamente riasciugato. La strada è la sua parte. È la sua parte. Il capello verrà completamente riasciugato. Il capello verrà completamente riasciugato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti